Signori, quest'oggi tento di giocare, attenzione che la parola tento è importantissima perché a tutti gli effetti ci provo per la prima volta con il solitario, ma con il solitario avanzato, attenzione, quindi casino innumerevole, la mia esperienza è veramente ridotta all'ossissimo perché non è che ho avuto la possibilità temporale di gestire e fare delle prove. Ho giocato con gli esseri umani naturalmente un paio di volte, anzi per la precisione direi una volta e mezza ed è purtroppo uno di quei giochi che richiede esperienza per essere valutato, poi devi provare un po' tutte le fazioni, conoscere un po' tutto. Ci vuole quel commitment naturalmente bello, dignitoso, con un gruppo di gioco che magari lo si rigioca più volte, si provano le varie fazioni, perché poi il teaching lo lasciamo da una parte, assolutamente ce n'è in giro, non perdiamo tempo, però sul solitario in modalità avanzata non c'è niente. Ed è per me una bella impresa perché questo è un giocone, lo sappiamo tutti, è stato molto apprezzato dalla gente, chi più e chi meno, e qua c'è già quello lezzino di Goblin Magnifico dell'anno prossimo. O almeno una nomination buttata così ci sta o ci starebbe, eventualmente. Ovviamente questa è una versione digitale perché io non ho la versione fisica, non è un gioco che vorrei detenere in prima persona perché a tutti gli effetti trovarsi quattro giocatori ogni volta è problematico. Allora io ho giocato una volta con i capitalisti, è una fazione che mi ha garbata un casino perché guadagna un sacco di grana, produce un sacco di risorse, e vorrei provare oggi con la working class. Working class, vediamo un pochino se mi ricordo, naturalmente voi che ci avete giocato centomila volte più di me, magari se mi date un ausilio a capire. Prima cosa, preparation phase, la possiamo anche schippare il primo round, anzi si schippa, perché abbiamo già fatto tutto in fase di setup. Passiamo subito all'action phase. Allora, vediamo un pochino le cards che ho. Allora, pagare 5 allo Stato per ogni lavoratore disoccupato. Tra l'altro qua ho i miei lavoratori, non so perché la middle class non abbia lavoratori qui, non so se sia normale. Tra l'altro ovviamente ho escluso lo Stato, eh. Lo Stato l'ha escluso perché già dovrò analizzare due botte, lo Stato oppure no. 5 per ogni lavoratore disoccupato e posso comprare i beni e i servizi dallo Stato. Potrebbe essere una cosa, comprare beni di lusso ad un altro giocatore, migrazione, se ho almeno 4 disoccupati, non è questo il caso. Fare due proposte di legge, ah per due volte, beh, la working class ha un sacco di queste carte. Comprare la salute dallo Stato, fino alla tua popolazione pagando metà del costo. Con 4b, 4c, di cui siamo già... Ora, attualmente lo Stato mi vende la salute, che è questa, per 5. Quindi gioco questa carta di fronte a me. Ovviamente i lavoratori che cose devono fare? Devono accrescere la loro popolazione buttando e facendo emigrare gente che poi dovrà andare a lavorare nelle varie aziende, middle class, capitalista e quelle statali, poi utilizzare soldi per acquistare bene i servizi che servono per accrescere la prosperità della gente. Ora però i soldi ci vogliono, quindi iniziamo ad avere innanzitutto un po' di elementi. Allora, comprare allo Stato, fino alla tua popolazione, che in questo caso è 3, quindi 5 a pezzo, 5, 10, 15, però metà del prezzo, 3 di questi. Notare che in fondo alla carta qua c'è questo segnalino che fa incrementare la legittimazione dello Stato, che però non ho stato, scusate, vabbè non c'è, sarebbe qui, utilizzare i miei beni e servizi per far accrescere la prosperità. Solitamente si deve pagare un tipo di risorsa in base alla mia popolazione e ogni tipo di risorsa fa un qualcosa di diverso, tipo la salute ci fa guadagnare una prosperità ovvio, ma ci dà anche un bonus di punti vittoria e ci fa aggiungere un lavoratore grigio, quindi non schillato. L'education invece ci fa migliorare un lavoratore da non schillato a schillato. Allora, questi qua che ho appena guadagnato li spendo naturalmente. Guadagno una prosperity, quando salgo nella prosperity guadagno un punto, cioè in base a dove sono arrivato, in questo caso il primo spazio un punto, e poi mi faccio due punti bonus perché ho usato la salute, mi aggiungo un lavoratore non schillato che sarebbero questi qua, benissimo, che tra l'altro mi potrebbe sbloccare anche la carta. Ah, giustamente sì, devo anche incrementare la popolazione perché ho aggiunto un nuovo lavoratore alla mia riserva. Vediamo un pochino adesso, arriva il casino perché fin qui è facile. Può ripassare alla middle class. Allora, qua devo analizzare bene la situazione. Ora, ci sono queste carte qui, dove sono? Ecco, ne peschiamo una, che vanno ad indicare che cosa fa il bot. Ora, nella modalità semplice si applicano le icone da sinistra a destra, o meglio, non l'ho guardato nello specifico, comunque va a risolvere delle azioni in maniera molto semplice. Qual è il problema invece della modalità avanzata? Che abbiamo a sta pappardella di roba, in cui dobbiamo fare una serie di check in base a questa carta e fare salire le varie priorità. E quindi il bot andrà a fare l'azione che ha la maggior priorità. C'è tutta questa pappardella di carte da visualizzare, quindi attenzione. All'inizio del turno dell'automa bisogna fare le free action. Allora, usare healthcare, education, luxury, uguale alla sua popolazione, li spende, ma in questo caso non credo abbia abbastanza risorse, no. All'inizio partita sicuramente non può fare questa roba, quindi come free action fa quello, può swappare i lavoratori, ricevere benefits, che lo fa automaticamente se lo stato, ma in questo caso credo che non ci sia sta roba, perché non c'è il giocatore dello stato che dà i benefits. La prima icona che compare in alto sinistra è l'azione assign workers. Devi essere in grado di assegnare almeno due lavoratori non impiegati. La cosa che mi chiedevo prima, perché qua è scriptato il setup, assolutamente scriptato, ma mi chiedevo perché la middle class non ha dei lavoratori disoccupati qua? È normale questa cosa? Io il setup fisicamente non l'ho mai fatto di persona, quindi secondo me anche perché inizia senza lavoratori, non è proprio bellissimo. ho schillato e poi si pesca due carte di queste, c'è uno grigio e uno che cavolo di colore è quello. Comunque, al di là di questi orpelli, swappare i skilled con gli unskilled, ma in questo caso non ha senso all'inizio, allora fare questo check, almeno due possono essere occupati? Aspetta un attimo, almeno due possono essere occupati? Non credo. No, possono andare questi tre, a tutti gli effetti potrebbero andare in questa azienda pubblica. A tutti gli effetti almeno due possono essere assegnati. Direi di sì. Quindi, più uno e quel worker, abbiate pazienza, non lo comprendo appieno, probabilmente sali di uno per ogni lavoratore. In questo caso sono tre che potrebbero essere assegnati, però non è detto perché la situazione può cambiare. Ok? Posso andare io prima di lui. Quindi, cosa succede con questa roba? Signed workers sale di uno, due, tre. Quindi sale la priorità. Ora, c'è un effetto che ovviamente non ho capito bene perché non ha avuto tantissimo tempo. Quindi possono collassare le carte se ci sono degli spazi vuoti, ma credo che prima debba fare comunque i check, perché sennò riduce brutalmente la priorità che ha acquisito. Andando avanti nelle priorità, abbiamo, vediamo, buy goods and services. Devi comprare almeno tre risorse. Controlla le tre risorse per incrementare la prosperità. Sono disponibili in una quantità uguale a tua popolazione. Lui ha bisogno di avere almeno tre. Ok? Almeno tre di un tipo. comprandole poi fino a due fonti, no? Può comprarsi del cibo o della salute? Allora, cibo può comprarne uno dal capitalista, che costa dodici, mentre, ovviamente, lo Stato non vende il cibo. Quindi, non è in grado di comprarsi abbastanza cibo. È in grado di comprarsi abbastanza salute? Sì, perché a tutti gli effetti la può comprare dallo Stato. Allora, per ogni risorsa elegibile, controllare se la puoi ottenere a gratis, assolutamente no, perché deve pagare. Se costa sei per oggetto o meno, sei o meno, allora lo Stato la salute la vende a cinque. La condizione si verifica. BGS, ovvero Buy Goods and Services, sale di due. Avanti, prossima è Build Company. Ci deve essere almeno una compagnia nel mercato che puoi permetterti e avere lavoratori. Per ogni company nel mercato che puoi permetterti di costruire e hai i lavoratori richiesti, controllare. Se rimangono almeno due fasi di produzione, due fasi di produzione, direi di sì, perché siamo al primo round, quindi BC, che sarebbe Build Company, sale di uno ogni due fasi di produzione rimanenti. Ok. Quindi, due quattro, sale di due. Aspetta, uno e due. Dovrebbe fare così. Perché per difetto, per eccesso, non lo so, in realtà. Quindi lo slot, quello fra parentesi, e c'è almeno un disoccupato che può riempirlo, è questa condizione. Fai vedere. Sì, perché gli spazi, fra parentesi, della working class sono ancora liberi, perché non ce li ho mandati ancora. Quindi, BC sale di due. E direi che dopo, anche con tutti i check che si possono fare, non può salire ulteriormente. Allora, vediamo la penultima. se la prosperità è uguale o maggiore del numero di compagnie operative, la prosperità sua è uguale a zero, quindi direi assolutamente no. Se le domande precedenti hanno fatto muovere la carta di uno o meno, la special action sale di uno, ma no, la build company, questa carta è salita un bel po', quindi la special action rimane con priorità bassa. Dopodiché, ultima azione è, come diavolo si chiama, propose bill. Allora, advanced mode, devi avere un bill market naturalmente, almeno una policy nella priorità. E qua, la parte incasinata, controllare le sue policies, che sono queste. Dai dei requisiti, no? come da giocatore umano, che fa punti a fine partita in base ai piazzamenti delle policies a fine partita, 1B, 2B, 3B, ha mostrate nella carta aspetta, allora taxation e fiscal policy ok, sono indicate sulla carta ci siamo per ognuno delle due se non è da una parte e se ha almeno un bill marker bisogna controllare direttamente adiacente a quello desiderato sì, è adiacente quindi significa che PB no, un attimino un attimino PB significa propose bill naturalmente sale di uno ok se è due spazi sale di due andiamo a vedere la fiscal policy è uno adiacente quindi propose bill sale di uno ok quindi muovere le policies priority card lo stesso numero di passi vediamo che cosa intende con lo stesso numero di passi che cosa intende allora secondo me taxation e fiscal policy in quest'ordine qua salgono di uno sono adiacenti alla legge corrente quindi sono salite di uno nel propose bill qui quindi queste due sono salite di uno se poi è diversamente correttezza informativa dopo tutto questo puttanaio allora a sto punto queste dovrebbero collassare così perché sennò rimangono i spazi vuoti non vanno bene rimane con priorità alta build company guardate che casino che sto facendo per un turno solo poi ovviamente se ci avete giocato centinaia di volte con questo solitario andateli dritti però è la prima volta che lo faccio vediamo un pochino check goods building company criteria per scegliere quale company costruire se ci sono più opzioni usare questi criteri allora lavoratori della working class disponibili per riempire lo slot quindi importantissimo quella roba lì direi che come priorità ci sono queste due carte perché sono due carte che hanno l'omino della working class fra parentesi quindi nella lista di priorità è quello richiedere lavoratori middle class ok industry con meno compagnie operative probabilmente intende il tipo allora vediamo fra beni di lusso e salute qual è qual è quale c'è di meno beni luxury abbiate pazienza ce n'è di meno ok essendo ce n'è di meno direi che la sua priorità è acquisita cioè lui vuole costruire non costruisce mai compagnie se almeno due compagnie della stessa industria va bene ma lui vuole costruire lui vuole costruire sta roba no e quindi questa qua è la carta che vuole costruire va a piazzarla nella zona middle class allora a quel punto aspetta un attimo però aspetta un attimo non prendeva questo a inizio gioco perché non avrebbe avuto molto senso anche qua se ho sbagliato però abbiate pazienza aspetta un attimo vuole quello blu perché se no non lo può assegnare né a questo né a questo avrebbe avuto senso una roba del genere per andare un attimo avanti direi che quindi lui tizio va ad assegnare la gente quindi questo qua poi diventa committed naturalmente appena lo assegni perché ha senso e andiamo a metterci un lavoratore dei miei quindi della working class anche lui committed fra parentesi e andiamo a buttarci un bunker generico in questo caso i salari a metà quindi otto soldi otto denari otto dollari chiamatela come desiderate quella valuta quindi lui praticamente ha fatto stazione che cosa succede alla fine dopo che fai tutti i checks dopo che hai fatto l'azione muovere la carta priorità due spazi in basso ok quindi bill company fa così uno o due ok ci siamo benissimo dopo questo snello turno passiamo al al capitalista allora capitalista attenzione andiamo a capire quali sono le sue possibili free action perché sappiamo che la prima cosa che fanno allora free action aggiustare i prezzi che lo fa automaticamente in base alle policy lui andrà a piazzare naturalmente il salario minimo possibile ma questo è chiaro non dà mai bonus allora automaticamente compra lo storage quando ha più risorse che deve ah lui è un figo naturalmente va a cittare a manetta come bot e quindi si compra i magazzini così for free ricevere benefits no ripagare i debiti va bene allora peschiamo la sua carta che sarà questa qui allora ah e ci sono queste robe qua taxation welfare quindi prima di tutto la prima icona a sinistra rappresenta build company ok deve esserci almeno un company al mercato che può permetterti ma un sacco di soldi direi assolutamente sì andiamo a vedere check companies per ogni company nel mercato che puoi permetterti allora se è automatizzata o se c'è almeno un lavoratore disoccupato disponibile o lavoratori che possono riempire i suoi spazi vediamo ha delle robe automatizzate ancora non ce ne ha automatizzate però questo qua non si capisce il colore ma credo sia quello blu non ne abbiamo e di questi di quelli verdi che sono quelli dell'agricoltura credo che questo sia dell'agricoltura ok le abbiamo quindi l'unica diciamo compagnia che può permettersi di costruire è questa qua perché nella sua priorità bisogna lui deve metterci i lavoratori credo gli umani non hanno questa questo obbligo possono costruire un'azienda anche se poi non ci mandano nessuno a lavorare più uno per fasi di produzione rimanenti di nuovo quindi Bill Company più due spazi abbiamo detto ok poi se per eccesso non lo so se produce una risorsa che correntemente non produci o non sei in grado di produrre se andiamo a vedere il capitalista che è qua lui vuole costruire questo quindi vuole produrre del cibo e lui attualmente dove cavolo sei capitalista 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 si questo lui attualmente si produce delle risorse produce cibo quindi questa non sale di una in più poi se c'è una demonstration quindi una roba che posso mettere io naturalmente se ci sono meno posti di lavoro e un sacco di disoccupati posso fare delle maestranze così poi se la questione precedente ha causato il movimento di uno o meno si quindi la special action questi slittano aspetta un attimo la special action sale di uno perché Bill Company è salito solo di uno per ogni company non operational che possiedi controllare se la vendi guadagni almeno 20 non operativa dici quelli in cui non c'è gente c'è questa qua no perché questa vale 16 no quindi direi che special no sc sell company non sale aspetta un attimo ok quindi ha fatto questo check poi altro check da fare sell to the foreign market vediamo un attimino questa carta qua allora vedere la carta export per vedere se posso vendere se puoi fare almeno due transazioni ma non credo a questo punto nel gioco vediamo la carta che è uscita perché non eccola qua allora 4 7 cibo no salute no education ne ha due no assolutamente non può fare non può fare almeno due transazioni quindi special action sale di uno perfetto poi quello sarà la votazione che sarà la proposed bill eccola lì allora vediamo qua le policies un attimino allora lui ha mostrato taxation e welfare state che sarà del tutto simile no qualcosa di diverso rispetto all'altra classe c'è ovviamente 1 c 1 c eccetera eccetera allora per la taxation concentrazione massima lui vuole una 1 c esattamente no aspetta è due spazi è due spazi attenzione è due spazi quindi pb 1 2 ok se la policy è taxation ancora di 1 sale ok poi in realtà dovrebbe salire ancora a causa dell'altra quindi welfare state bla 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 che dovrebbe essere sul 4 c e uno adiacente sale ancora di 1 direi che la priorità è acquisita vediamo saliamo ancora con la lobby allora lobby check influence sarà questa qui se c'è almeno una proposta no ok otherwise se non ci sono proposte la special action sale di 1 sale così va bene ho fatto i miei check questi collassano questi collassano e direi che la priorità più alta è propose bill quindi andiamo a vedere un attimino a propose bill dove cavolo è credo che allora la taxation saliva di un attimino allora no dov'è la taxation saliva di 2 più 1 mentre l'altra che era la welfare state saliva di 1 quindi quindi un 2 3 e l'altro saliva di 1 ok una roba del genere quindi io direi che la taxation ha la priorità più alta lui che cosa fa naturalmente va a fare un propose bill sulla taxation si va a mettere qua ok ora non ho capito se lui può come si dice fare la votazione istantanea spendendo il cubo da qualche parte ci sarà final round allora fa una stima di madonna mia santa del dio fa una stima non la fa non la fa lo facciamo poi dopo la votazione allora 1 lo stato non c'è tocca finalmente di nuovo a me dopo tutto sto casino tocca a me ola allora guadagno 5 tocchi dallo stato per ogni lavoratore disoccupato potrei fare questa roba e poi posso comprare goods and services abbastanza poi grana non saprei posso comprare dell'education education che mi costa un casino a sto punto cioè mi costa 10 a pezzo è tantissimo allora posso comprare beni di lusso da un altro giocatore li posso comprare da lui per 8 grani li pago io e metà li paga lo stato dobbiamo essere in 1a o 1b che non è questo il caso purtroppo quindi questa carta ci ha parato propose 2b andiamo a fare delle proposte ma si dai allora una proposta assolutamente che voglio è l'immigrazione perché assolutamente vogliamo portare più gente in gioco e un'altra cosa che voglio fare e beh si perché magari aprire più aziende statali forzo lo stato a farlo eventualmente per avere più posti di lavoro iniziamo così free action direi che per adesso assolutamente nulla è devastante è devastante questo solitario è una roba terrificante 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 mai mai nella vita mai 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 non è possibile non è possibile cioè bisogna una roba contortissima è veramente una roba per quello non c'è non c'è nessuno che sia azzardato su internet a fare una roba del genere perché non è ammissibile non è ammissibile o fai la versione semplice che fa delle azioni vabbè sarà un ordine molto però andarsi a vedere queste priorità e poi andare a vedere quella più alta e poi in base a quella più alta andare a vedere come cavolo la fa e avere un sacco di priorità di regoline regolette no no esagerumane esagerumane gioco è bello ma da giocare con gli esseri umani rigorosamente o forse fare un solitario semplice però è veramente terrificante io non posso resistere a un simile scempio e quindi ci vediamo sicuramente per un altro gioco saluti iiii